6 e 30 puntuali, Simona buongiorno, Paolo buongiorno, questa mattina visiteremo il foro di Augusto, Giussi buongiorno, allora andiamo verso i fori imperiali, Giussi dice bellissimo, buongiorno Katia buongiorno, stiamo attraversando tutti i fori, vedete il Colosseo ce lo lasciamo alle spalle, siamo quasi arrivati ragazzi, Rosaria buongiorno, Emanuela buongiorno, è tutto gratis, com'era la vita in quegli anni, Adesso facciamo la guida formale, al centro del lato orientale del foro di Augusto si ergeva il Tempio di Marte, la sua costruzione si deve a Ottavio Augusto, Rosario dice ottima la stabilizzazione video, sempre alla ricerca dell'eccellenza, grande Rosario, aspetta fammi vedere, così mi dà un voto, guarda che panoramica, è anche vero che a volte non è tanto la macchina che usi, l'apparecchio che usi, ma è quello che inquadra, quindi ho qui il gioco facile, e quindi ragazzi se passate di qui a qualsiasi ora, anche la notte, secondo me soprattutto la notte, Rosario mi ha dato un 10, Elena buongiorno, vi sedete in questa tribuna e qui si sentono soltanto i gabbiani, Katia dice Roma città eterna, stupenda, va bene io con queste immagini vi saluto, con il foro di Augusto alle mie spalle, ci vediamo domani sempre 6 e 30 puntuali, ciao a tutti buona giornata, mattinieri, buongiorno a tutti, 6 e 30 puntuali, siamo sempre a Roma, quartiere San Paolo, precisamente in via Cestio, ieri vi ho promesso che saremmo andati in Egitto, ovviamente non siamo in Egitto, siamo in provincia, stiamo andando a visitare la piramide, ci siamo quasi, qualche minuto, intanto però stiamo costeggiando, Simona buongiorno, stiamo costeggiando il cimitero acattolico presente a Roma, che si distingue per la grande concentrazione di artisti, poeti, scrittori, diplomatici, filosofi, i più noti, al me il più noto, Emilia buongiorno, Monica buongiorno, il poeta più noto a me è Greco Ricorso, un poeta americano, uno dei più giovani del gruppo della Beat Generation, lo dico non solo perché è importante, proprio perché è una delle poche cose che io mi ricordo all'università, ricordo lui, Greco Ricorso, ricordo Kerouac, tutti gli artisti poi tradotti in Italia dalla grande Fernanda Pivano, Emanuela buongiorno, Paolo buongiorno, a parte che non sono soltanto stranieri, c'è anche l'apide di Antonio Gramsci, quindi attira comunque turisti e curiosi, essendo un cimitero comunque è suggestivo andarlo a visitare, credo si paghi una sciocchezza, 2-3 euro, ed è ancora attivo, uno può ancora decidere di... Tommaso buongiorno, buongiorno Mario, bellissima cosa quello che fai, è un piacere Tommaso, è un piacere, è uno stimolo in più per alzarsi la mattina e andare a fare una corsetta, sapere che c'è qualcuno che mi aspetta, quindi nulla, se vi capita, l'unica cosa è che ricordatevi quando entrate nel cimitero di non fare il segno della croce, che essendo a cattolico, i defundi, non dico si offendono, però voglio dire, hanno combattuto una vita, ora uno entra, mi fai il segno della croce, mi fai morire. 6.30 puntuali, vediamo se indovinate dove siamo. Parlava un'altra lingua però... Non siamo a Genova, bravo Emanuele, Bologna, Emilia ha beccato l'altro clan di cantautori, Sì, perché Genova e Bologna, quando pensi a queste grandi città, oltre ai grandi scrittori, poeti, carducci, nel caso di Bologna, ti viene sempre in mente subito la musica. Via d'Azzeglio numero 15 è la casa dove abitava Lucio Dalla. Grazie, buongiorno, che spettacolo! Una delle piazze più belle, più suggestive, più dinamiche della città, direi anche più dinamiche d'Italia. Facciamo una bella panoramica. Agnese, buongiorno! Voglio morire in Piazza Grande! Io erroneamente pensavo che Piazza Grande Lucio Dalla l'avesse scritta riferendosi appunto a Piazza Maggiore, ma in realtà pare che non sia così. Non so quale critico musicale, analizzando il testo, si è accorto che ad esempio gatti non ce ne sono, l'erba non c'è nella Piazza Maggiore, per cui dovrebbe essere Piazza Cavour. Guardate che spettacolo! Simone dice, fai vedere la fontana del Nettuno. Che spettacolo! Giussi, buongiorno! Carmen, buongiorno! Un saluto dalla Sardegna! Fatemi leggere qualcosa. Elisabetta dice, ti stai avvicinando a Modena. Anna dice, da tanto che non vengo a Bologna. È sempre bella. Un abbraccio da Lecce, bellissima anche Lecce. Vieni anche a Lucca, certo che vengo a Lucca. Ti siedi su questi scalini, anche chi non ha mai cantato, chi non ha mai suonato, si prende una chitarra, fai il primo accordo, e poi ti vengono fuori tre, quattro versi che rimarranno nella storia della musica italiana. Insieme ai gatti che non ha un padrone come me, attorno a me. Ciao a tutti! 6,30 puntuali, è una delle fontane più celebri e più famose al mondo. Giù si dice, bella la fontana di Trevi, mi manca! Emanuele, buongiorno! Marisa da Bari, saluti a tutta Bari. Tra un po' lanceremo la monetina, chi passa non può esimersi. Sapete una curiosità? Con il lancio delle monetine, questa fontana, in cassa, in cassa, tra virgolette, in media circa 3.000 euro al giorno. Quindi aveva ragione Totò quando spiegava all'americano che è un bel business. Silva, buongiorno! Francesco, buongiorno! Paolo, buongiorno! Fatti un tuffo! Se passi di qui non puoi non pensare alle scene cinematografiche. Sicuramente la dolce vita di Fellini. Marcello, come here! Come here! Sì, ma non provate a rifarlo. L'anno scorso c'era una spagnola, la presentatrice. Era in Italia perché era nel Grande Fratello, se non sbaglio, no? O nel Viso dei Famosi. Non mi ricordo. Allora si è buttata. Ah, beh, ha preso una multa. L'ho portata, eh! Non ho voluto esagerare. Ora voi direte che è tirchio. No, in realtà, se devo dirvi la verità, l'avevo dimenticata. Ho allungato la manina e l'ho presa. Così posso fare la scena del lancio. Marco, buongiorno! Esprimete voi un desiderio. Io lancio la monetina. 6,30 puntuali. Emanuele diceva con due centesimi. Cosa vuoi esprimere? Emilia dice sempre i genovesi. Manina corta. Ora apriamo questa diatriba con i genovesi. Tommaso, buongiorno. Ah, Emilia sei di Genova. Allora puoi permetterti la battuta. Uno, due e tre. È andata. Lucia dice ti tocca ritornare. Vediamo. Se il desiderio si realizza, non torno. Che mi passi il dolore al dente devitalizzato. Tommaso, un abbraccione. Speriamo allora che passi, vai, che si realizzi questo desiderio. Manola è di Pescara. Bellissima Pescara. Dalla Fontana di Trevi è tutto. Buona giornata, buon lavoro. Ciao a tutti. Buongiorno a tutti. Centro storico di Rimini. Non possiamo non citare Federico Fellini. Simona, buongiorno. Non ha mai girato una pellicola, una scena fisicamente qui a Rimini. Ma le varie scene che si vedono sono state ricostruite a Cinecittà. Una di queste ci stiamo arrivando in piazza Cavour. Emanuele, buongiorno. Eccoci arrivati. Paolo, buongiorno. Maria, buongiorno. Proprio in questa fontana della pigna si posò il pavone nella scena delle palle di neve, nel film Amarco. Accanto c'è la vecchia pescheria. Monica dice ti trovi nella terra che amo. Sono Veneta, ma l'Emilia Romagna che adoro. Direi di farci una corsetta per raggiungere il castello. Sì, comunque Monica hai ragione. Terra bellissima. Manuela, buongiorno. Forse Alberto Angela, ragazzi. Mi sembro più fantozzi che racconta. Sto scoprendo tante cose insieme a voi. Eccoci qui. Castel Sismondo. definito proprio da Fellini la Rocca, la prigione di Francesca. Giussi, buongiorno. Grazie, buongiorno. Ed è una cinta di bastioni distrutti alla fine del XIX secolo. Bellissimo. Emilia dice, però, bella Rimini. Ma veramente bella, perché uno magari pensa subito al mare, no? Al divertimento. Va bene, io vi saluto. È stato come sempre un piacere. Ci vediamo domani sempre 6.30 puntuali. Non si sa da dove, vediamo, da qualche parte mi fermerò. Ciao a tutti, buona giornata. 6.30 puntuali. Siamo precisamente a Bojede. È solo in compagnia, questa mattina, del buon Daniele. Tu sei il Livornese Doc? Sì. Siamo sul Viale. Il Viale Italia, siamo sul mare. Giussi, buongiorno. Stamattina ti c'hai compagnia. È un Livornese Doc che mi fa da Cicerone. Mi ha portato sulla terrazza Mascagni. Chi era Mascagni? Il grande compositore. Cavalleria rusticana, no? Esatto, esatto. Non mi fai domande difficili. Peccato che è buio, perché noi siamo praticamente a 2 cm dal mare. Però si sente, zitti, zitti, zitti. Ma si può salire su? Si può entrare dentro? Si può salire. No, non ci credo. Andiamo, andiamo. Andiamo. Emanuele, buongiorno. Sono Daniele Romantica, Livorno. Rita, buongiorno. Questo gazebo è uno dei più gettonati per le foto degli sposi. Poi tra l'altro qui sotto c'è un riscoglio dove i Livornesi prendono il sole da marzo a febbraio prossimo. Ti rendi conto che domenica scorsa c'era gente che faceva il bagno. Ci credo. Secondo me se scendiamo ora c'è qualcuno che aspetta il sole. O che c'è rimasto da ieri sera. O che c'è rimasto da ieri sera. Maria, buongiorno. Alessandro, buongiorno. In viaggio verso Livorno dalla stazione di Gampiglia Marittima. Ah, da Palermo, Maria. Ora vengo anche a Palermo. Da Cireale, Alfina. Grande. Ciao. Cinzia da Bari. Io vi ringrazio che voi mettete la sveglia per seguire la mia diretta. Vabbè, l'idea è bella. Ciao a tutti. Buona giornata. Buon lavoro. Buon lavoro. Ciao. Fateci un passaggio a la Tedazza se una bella giornata. Vi piacerà sicuramente. Te ci hanno mai mannato. A quel paese sapessi quanta gente che ci sta. 6,30 puntuali. Largo Caracalla. Questa qui non si vede perché non ci sono luci accese. È la famosa villa di Alberto Sordi. Si può visitare a numero chiuso, si va solo su prenotazione, su appuntamento, si va sul sito della fondazione Alberto Sordi. Io non ho avuto ancora la fortuna, però ho visto che ci sono oggetti che ha utilizzato anche nei film. C'è la paletta, il cappello del vigile. Paolo, buongiorno. Buongiorno, Maria, buongiorno. Tra l'altro questa casa è stata comprata da Alberto Sordi nel 1958 e voleva comprarla anche Vittorio De Sica. Cosa vi ricordate voi del grande Alberto Sordi? Io ovviamente non l'ho vissuto durante la sua carriera, che ero piccolino. Per fortuna con i mezzi di internet, con YouTube, ci sono veramente delle chicche accessibili a tutti. Come il famoso sketch del 1982 insieme ad Adriano Celentano, nel fantastico 8, dove c'è Alberto Sordi e Celentano seduti in silenzio e Alberto Sordi che gli dice sti silenzi che fai, tu fai silenzi? A me mi dà nozze, a me mi va di fa niente. Pezzi di storia. E il primo cittadino amico mio, tu digli che te ci ho mannato io e vai, vai. Ciao a tutti.